Ultima ora, Alessandro Meluzzi. Ma prima di iniziare il video, ti chiedo di iscriverti al canale e mettere mi piace, grazie. Grande preoccupazione per la salute di Alessandro Meluzzi, noto psichiatra e criminologo di 68 anni, colpito da un'ischemia cerebrale. Celebre per le sue apparizioni televisive e le analisi su casi di cronaca nera, Meluzzi è stato ricoverato d'urgenza a Rimini dopo un malore durante una visita a pazienti. Il criminologo, coinvolto in numerosi casi di risonanza mediatica, ha avuto un malore mentre riceveva pazienti nel suo studio a Rimini, venendo successivamente trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato operato d'urgenza. Il critico Red Ronny ha espresso il suo sostegno, sottolineando l'importanza di Meluzzi nella difesa della verità. Commenta anche tu per rimanere vicino ad Alessandro. I messaggi di solidarietà si sono diffusi sui social, mentre l'amico Red Ronny ha dichiarato di pregare per lui. Il bollettino medico conferma che l'intervento è stato superato con successo, ma la prognosi resta riservata. Meluzzi è attualmente in rianimazione e le prossime 24 ore saranno decisive. L'emorragia cerebrale è stata causata da pressione sanguigna alta e le sue condizioni rimangono gravi. Il peggio non è ancora passato. Grazie per aver visto il video e se ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale.